Benvenuti in Frédéric Costa. Frédéric Costa è un marchio di orologi di lusso svizzero che ha conquistato il mondo con la sua produzione di orologi di alta qualità dal design classico ed elegante, abbinato a tecnologie innovative e funzionalità avanzate. Fondata nel 1988 dai coniugi Peter e Aletta Stas, la Frédéric Costa è uno dei pochi marchi di orologi di lusso svizzeri ad avere una produzione interna al 100%. Tutti i movimenti degli orologi Frédéric Costa sono progettati, sviluppati e assemblati internamente nella loro manifattura di Plenlewitz, vicino a Ginevra, in Svizzera. La produzione interna è uno dei punti di forza del marchio, che garantisce la massima qualità e precisione in ogni fase della produzione degli orologi. Frédéric Costa si distingue per la produzione di orologi con movimenti automatici, ma offre anche orologi a quarzo. Ogni orologio Frédéric Costa è realizzato con materiali di alta qualità, come acciaio inossidabile, oro rosa e platino. La vasta gamma di orologi offerti da Frédéric Costa include orologi da uomo e da donna, orologi da polso e orologi da tasca. Il marchio è noto per la produzione di orologi con complicazioni come il calendario perpetuo, il cronografo e la visualizzazione del secondo fuso orario. Inoltre, Frédéric Costa offre una linea di orologi smartwatch, che combinano l'eleganza dei tradizionali orologi svizzeri con la tecnologia moderna. Se sei alla ricerca di un orologio di lusso dal design classico ed elegante, abbinato a tecnologie innovative e funzionalità avanzate, Frédéric Costa è sicuramente il marchio che fa per te. Scopri la vasta selezione di orologi Frédéric Costa e scegli quello che meglio si adatta al tuo stile e alle tue esigenze.